bentornati oggi indaghiamo un filtro che è molto più complesso di quelli visti finora si tratta infatti di pastelli su superficie ruvida andiamo a vedere che oltre ad avere più impostazioni ha anche tutta una sezione dedicata alle impostazioni della texture quindi cominciamo a partire da zero ingrandisco un po così si vede meglio vediamo che sostanzialmente è stata inserita una texture ed è stata simulata la pressione di pastelli sopra questa texture ora io posso andare con questa prima parte a lavorare sui dettagli e sulla lunghezza del tratto del mio pastello mentre con la seconda parte posso lavorare sulla texture su cui viene applicato l'effetto quindi posso per esempio mettere i mattoni e posso lavorare su quanto rilievo deve avere questa texture e quanto grande deve essere la trama per esempio rimpicciolendo i mattoni posso ottenere qualcosa che è simile all'effetto monitor disturbato ingrandendoli diventa più simile a una pattern di un muro quindi con un murales di grandi dimensioni posso andare a inserire tessuto e avrò una trama che ricorda quella di un tessuto con con tutti i fili quindi potrebbe andare a simulare una stampa su tessuto posso andare a lavorare su quella che è una tela quadro quindi cercare di farlo somigliare a un dipinto e ovviamente ogni volta posso andare a rilavorare anche sui dettagli per renderlo più realistico possibile posso andare a renderlo simile all'arenaria e questo personalmente è il mio preferito perché è quello che trovo che dia l'effetto migliore in generale quello di realismo maggiore è anche possibile decidere da che direzione viene la luce questo potrebbe avere un effetto cruciale sulla resa finale in quanto dalla direzione della luce dipende come come verranno renderizzate le linee orizzontali e verticali quindi per esempio in questo caso abbiamo i baffetti e la resa può essere molto diversa a seconda della direzione della luce è anche possibile invertire questo fa riferimento solamente alla texture quindi viene invertita la texture ovviamente non i colori dell'immagine o l'immagine stessa ma solamente la texture è un effetto che può dare risultati molto carini ovviamente limitatamente al fatto che stiamo dando una simulazione di una superficie e quindi la qualità totale dell'immagine diciamo che sembra che vada a perderne in quanto la stampa su una superficie come questa non sarebbe comunque troppo precisa ecco è un effetto che possiamo usare se vogliamo inserire dentro il nostro artwork qualcosa che sembri stampato su un muro o inserito in una tela in un quadro ecco